Buongiorno, in questi giorni si è molto parlato sui giornali, sui social media, su televisione della nostra città di Roma. Se ne è parlato anche per i fatti accaduti pochi giorni fa sul palazzo occupato abusivamente in via di Santa Croce in Gerusalemme, sul fatto che appunto come tutti sapete il cardinale e Limosiniere è andato e con un atto di forza ha rilacciato la corrente elettrica. A questo sono seguite molte polemiche, anche giuste polemiche, perché ci si interroga se atti di questo tipo rientrino veramente in quello che noi intendiamo per carità cristiana. Ma io non voglio parlare di questo. Vorrei parlare della questione di Roma come città dell'accoglienza. Certamente Roma storicamente non può non essere una città dell'accoglienza. È la sede del cattolicesimo, milioni di turisti confluiscono qui a Roma per visitare i luoghi sacri, ma non solo quelli del cattolicesimo, ma anche i luoghi storici della grande storia romana, del barocco. Insomma Roma ha veramente tanto da offrire ai turisti e Roma vive anche del turismo, quindi questo turismo va veramente favorito e gli vanno garantite tutti gli appoggi e tutte le strutture adeguate. Però c'è anche un discorso che Roma è anche oggetto, come altre parti del nostro paese, di una immigrazione che anche in parte rientra in quello che Roma storicamente è. Anche nell'antica Roma c'erano continue migrazioni e Roma era conquistatrice, quindi inglobava dentro di sé altre popolazioni. C'è però il fatto che si può accogliere fino a una certa misura. Cioè l'accoglienza indiscriminata non solo non fa bene a chi viene, perché poi chi viene non trova quello che vorrebbe trovare, ma non fa bene anche a due altre categorie di persone. Gli stessi turisti, perché quando i turisti visitano la città e sono poi oggetto di attenzioni indesiderate da parte di borseggiatori vari, oppure si trovano a dover fronteggiare ubriachi che stanno lì barcollando e cercando di trovare qualcosa che non si capisce neanche bene cosa. Certamente anche i turisti hanno un'immagine molto edificante della città. Certamente molti diranno che ci sono anche gli italiani che fanno queste cose e hanno ragione. Nessuno dice che gli italiani siano tutti quanti perfetti e onesti, anzi. Però è anche vero che aggiungere legna su questo fuoco che già arde della criminalità, non è certamente una cosa che fa bene. Quindi non fa bene per i turisti, e ricordiamo che il turismo è una delle industrie, se non l'industria più importante della nostra città, e non fa bene anche per i residenti. Qui c'è da sfatare un mito, perché si parla spesso del disagio delle periferie, che sicuramente esiste a fronte di una migrazione incontrollata. Però non è soltanto un disagio delle periferie. Alcuni fanno riferimento al centro, dicendo che quelli che sono al centro non capiscono perché vivono protetti, ma in realtà non è così. Io vivo al centro da una vita, sono nato al centro di Roma, poi ho vissuto in altri luoghi per lavoro, ho vissuto in Asia per vari anni, però al centro vivo e lo conosco molto bene, e vi assicuro che il disagio è forte anche al centro, proprio perché il centro è comunque il luogo dove i turisti più volentieri confluiscono, dove sono i monumenti, dove sono i luoghi di ristoro, dove sono gli alberghi. Quindi io stesso, l'ho raccontato tante volte, se scendo da casa, ripeto, al centro di Roma, ogni giorno ci sono almeno 8, 9, 10 persone che mi chiedono l'emosina. Devo dire onestamente, gran parte di questi sono stranieri, ci sono anche gli italiani, ma gran parte sono stranieri. E questa radicalizzazione del disagio, io non credo che sia un qualcosa che fa bene. Non fa bene alla città, non fa bene alle persone che ci vivono, non fa bene ai turisti e non fa bene anche a questi migranti che vengono sperando in qualcosa, sperando in un lavoro, sperando in una nuova vita e dobbiamo dirci onestamente che purtroppo in questo momento storico una immigrazione fuori controllo non permette anche a queste persone che voglio veramente dire in gran parte vengono con tutte le buone intenzioni, non li permette anche a loro di ottenere quello che lungamente hanno sperato.